L'obiettivo è quello di far conoscere la disabilità, in modo particolare il discorso autistico per i ragazzi autistici. Noi gestendo la scolastica nella Val Vibrata abbiamo sotto mano i dati relativi a questo fenomeno, a questa patologia. Siamo circa al 43-44% dei ragazzi disabili con lo spettro autistico, quindi è tramite il coinvolgimento delle famiglie, portare alla luce le varie problematiche delle famiglie, dei ragazzi e delle strutture che attualmente sono carenti. A che livello è secondo lei l'inclusione in provincia di Teramo? Allora l'inclusione è molto bassa, ma come non solo in provincia di Teramo, ma anche nelle altre parti di Abruzzo, non è molto elevato. Noi stiamo lavorando, la cooperativa Sirena è una cooperativa che ha 18 anni sul sociale, quindi gestiamo diverse strutture. Ci stiamo all'asilo nido, gestiamo tre comunità educative, facciamo assistenza scolastica a disabili e da questo punto di vista vediamo che al di là delle varie problematiche, strutture per questo tipo di disabilità non esistono. Non ci sono o se esistono pochissime. Quelle che esistono sono quelle terapeutiche, però i ragazzi minori con questa patologia hanno bisogno di altro. Hanno bisogno di socializzare, hanno bisogno di stare insieme, hanno bisogno di partecipare perché molti che hanno una disabilità, diciamo, chiamiamola leggera, potrebbero lavorare anche, quindi un'inclusione lavorativa, nelle varie strutture che ci stanno. Certamente bisognerebbe coinvolgere anche le strutture che, non lo so se sono propensi ad accettarli, però è un discorso da fare per non lasciare questi ragazzi soli. Sicuramente un progetto innovativo che abbiamo voluto sostenere economicamente perché rientra nelle misure straordinarie e proprio innovative del piano sociale, ovvero si tratta di progetti anche cosiddetti pilota per andare incontro alle esigenze delle persone più fragili e più deboli della regione Abruzzo. In questo caso parliamo di autismo, tutte le persone effette appunto allo spettro dell'autistico molte volte vengono lasciate sole. Non riusciamo a capire quali sono le problematiche, quindi noi con questo progetto vogliamo andare incontro alle famiglie, a queste persone che hanno queste problematiche per capire poi come adattare il nostro piano sociale, che un piano sociale innovativo anche esso si può adeguare a queste esigenze. Quindi come aiutarli all'inclusione sociale, come aiutarli per esempio a fare sport, come aiutarli a entrare nel mondo del lavoro. Un servizio che vogliamo fare, ci vogliamo vicinare a queste persone perché spesso loro lamentano a distanza con le istituzioni. Quindi io voglio andare incontro tramite la cooperativa Sirena, che è specializzata in questo settore, ai genitori, alle famiglie e alle stesse persone affettate da autismo perché spesso vengono lasciate sole.